Intanto mi hanno indicato che qui sulla nostra tribuna, qui di fronte, abbiamo 29 titoli mondiali. Intanto è partita la gara, ne parleremo dopo con il nostro amico Juan Mantilla, already in the lead, world champion on track, marcato strettissimo da Bart Swings, che è adesso in terza posizione. Due patinatori dell'Ecuador, in gran condizione anche questa mattina Jorge Bolaños e Renato Campana. Jorge Bolaños, una lunga esperienza internazionale per aver, 29 laps to go, faltan 29 vueltas con Juan Mantilla. Jorge Bolaños e Renato Campana, il rotto colombiano. Andres Gomez in terza posizione, in quinta posizione, adesso si è infilato Bart Swings, che adesso all'interno va a prendersi la seconda. Mantilla, Bart Swings, it's been a war during these championships, una grande rivalità tra i due campioni. Juan Mantilla, più efficace su pista, ha battuto Bart Swings due volte su pista. Invece, Bart, fino a questo momento più efficace su strada, il campione olimpico. Tengono il ritmo altissimo i due colombiani insieme con Bart Swings. Quando suona la campana, suona la campana al prossimo passaggio. Quanti? Qui Campana è a meno 26. I primi punti. Come tengono il gruppo allungato, ci sono anche in quarta posizione. L'altro patinatore dell'Equador, Bart Swings, va subito a provare a sprintare per i punti. 29, 2 punti, 88, 1 punti. 29, 2 punti, 88, 1 punto. Sono i primi due punti per Bart Swings e il primo punto per Andres Gomez. E adesso avremmo previsto che ci avrebbe provato Bart Swings a prendersi altri punti. Si aggancia Martin Ferrier. E questo è un trio interessante. 29, 2 punti, 88, 1 punti. 29, 2 punti, 88, 1 punto. Sono... E questo è un terzetto interessante. Se decideranno di continuare sarà difficile. Infatti vediamo i compagni di squadra. Juan Mantilla, Jason Sattos, che giustamente proteggono la fuga. Vediamo se continueranno ancora Bart Swings a sprintare. Bart Swings a Juan Mantilla e Martin Ferrier. Martin Ferrier, world champion. 29, 2 punti, 88, 1 punti. 29, 2 punti, 88, 1 punto. These are three world champions in the breakaway. Martin Ferrier, we remember him winning the marathon at the world championships in Colombia. With that uphill at the end. And now they're sprinting, the two Europeans, Bart Swings. Martin Ferrier. Juan Mantilla. 2 more points, 4 points. Weehee. Hawking on him. Let's see if it was successful. Martin Ferrier. That was funny. That was great. That was a great move by the French skater. 29, 2 points, 1, 7, 6, 1 punti. Didn't work. The Hawking didn't work. Now Martin Ferrier. Intanto c'è il... E' andato in fuga. Era Andres Gomez, ovviamente non Mantilla. Mantilla è il testa al gruppo. Bart Swings. 1, 7, 6, 2 point, 29, 1 point. 176, 2 punti, 29, 1 punto. Primi due punti anche per il francese, ma vediamo che fine farà questa fuga. Bart Swings, Andres Gomez. E' Marton Ferrier. Andres Gomez va a prendersi i primi due punti. Il primo traguardo dà due punti, uno per Bart Swings. E' sono... 88, 2 points, 29, 1 point. 88, 2 punti, 29, 1 punto. E' già salito a 10. Bart Swings, quando mancano ancora 20 giri. A 10 punto, spara il campione olimpico. Quando faltano 20 vueltas. Bart Swings, Andres Gomez. Two more points for Bart. And then one for Andres. And it's very important for Marton Ferrier to be in this breakaway. Looking for the podium. And now let's give a look at the gap. 29, 2 points, 88, 1 point. 29, 2 punti, 88, 1 punto. Davide, 12 secondi, 12 secondi, 12 secondi, gap. 88, 2 points, 29, 1 point. 88, 2 punti, 29, 1 punto. And now there's a skater, Carlos D'Alazona. He looked like him from the beginning. Giuseppe Blamante with him. And then Ken Cuada. They're trying, 12 secondi, they said, this is too much. Enough is enough. We gotta look for them. Otherwise, it's a bit too late. Sempre il gruppo di testa. Poi c'è Blamante. 1, 7, 6, 2 points, 29, 1 point. 176, 2 punti, 29, 1 punto. Giuseppe Blamante, Ken Cuada, poi Mantilla, poi Jason Suttles nelle prime posizioni. Ma il ritardo è sceso a 11 secondi, ma ha cambiato poco. Vedremo su questo traguardo a quanto ammonterà il vantaggio dei fuggitivi. Barsins in grandissima condizione su strada, qui a Montecchio. Vediamo se è addirittura leggermente staccato. 29, 2 points, 88, 1 point. 29, 2 punti, 88, 1 point. Adesso è Giuseppe Blamante che si incarica. Sono 9 secondi, 9 seconds gap now. 9 seconds. Sono 9 secondi di vantaggio per il trio di testa. Non ha molta collaborazione, Blamante. Giustamente ci sono i fuggitivi delle stesse squadre. Quando mancano 16 giri. Siamo alla volata dei punti. Gomez, part swings, Martin Ferrier. 88, 2 points, 29, 1 point. 88, 2 punti, 29, 1 punto. Un altro punto per Bart Swinx che sale a 17. Sono 11 quelli di Anders Gomez. 5 quelli di Martin Ferrier. E dicevamo, è importantissimo per il francese rimanere in questa fuga, in prospettiva podio. Adesso Timothée Lobinot che si lancia all'inseguimento. Forse per dare anche un aiuto al compagno di squadra, visto che il gruppo non reagisce. Lo tiene sotto controllo. 1, 7, 6, 2 points, 29, 1 point. 176, 2 punti, 29, 1 punto. E' andato a prendere due punti importantissimi, Martin Ferrier. Anche se Bart Swinx ne ha 7 di vantaggio su Gomez. Il quale ne ha altri 4 sul francese. E Timothée Lobinot. That's a great acceleration for him. And yeah, Martin Ferrier waiting for him. And then they're going to get up. 29, 2 points, 88, 1 point. 29, 2 punti, 88, 1 punto. And that's a very smart move from the French team. And now they have to stay with the others. Bart Swinx, Andres Gomez, and now Timothée Lobinot. And Martin Ferrier. It's 13 laps to go points. And now we are ready for more points for Bart Swinx and Andres Gomez. 29, 2 points, 88, 1 point. 29, 2 punti, 88, 1 punto. It's a great work by Bart Swinx. And now it's a Timothée Lobinot in the lead. He basically kept on skating from the pack and closed the gap. And now he's pushing very hard. He's pushing very hard. Timothée Lobinot. Bart Swinx doesn't let him go. 179, 2 points, 29, 1 point. 179, 2 punti, 29, 1 punto. And so we have another skater. We have another skater. che è un'altra atleta che è andato a punti. Sono i due francesi. Martin Ferrier, Timothée Lobinot. E adesso la caratteristica andatura di Felix Reinen. Il record man dell'ora che si lancia l'inseguimento degli altri. Va a fare la spaccata su Bart Swinx. Timothée Lobinot. Felix Reinen con lui Giuseppe Bramante. Poi Livio Wenger. 29, 2 points, 179, 1 point. 29, 2 punti, 179, 1 punto. E intanto sono altri due punti per Bart Swinx. Che sale a 25. E adesso sono sempre in tre. Sono sempre loro tre. Si sono scambiati i francesi. Adesso Timothée Lobinot. Siamo al punti di meno 10. Timothée Lobinot, Bart Swinx, Andres Gomez, poi Bramante. Felix Reinen. 179, 2 points, 29, 1 point. 179, 2 punti, 29, 1 punto. Anche Renato Campana. Adesso viene chiuso il gap. Proprio Renato Campana insieme con Bramante, con Felix Reinen e Livio Wenger, Jason Sattus. Si è ricompattato il gruppo. Vediamo chi andrà a partire in questo momento. Quando mancano nove giri e sono altri punti in palio. Giuseppe Bramante. Giuseppe Bramante. in gran condizione in questo campionato. 2, 7, 7, 2 points, 1, 3, 3, 1 points. 2, 7, 7, 2 punti, 133, 1 punto. E sono due punti importantissimi. Quello del nostro miglior fondista che adesso va a sprintare con Felix Reinen. e abbiamo un'altra azione all'esterno prendendo lo slancio dallo sprint. 3, 5, 2, 3, 3, 2, 0, 6, 2 point, 3, 5, 2, 1 point. Julio Mirena, Julio Mirena. Poi dietro Felix Reinen arriva anche Livio Wenger. Questi sono tutti atleti professionisti di altissimo livello. Livio Wenger viene da un infortunio e si è... man mano ha guadagnato condizione in questo campionato e adesso prova ad andare in fuga. c'è Mirio Wenger, c'è... c'è... Livio Wenger, poi c'è Jason Suttles. 3, 5, 2, 2 point, 3, 7, 4, 1 point. 352, 2 punti, 374, 1 punto. E adesso si va a tutta, dall'inizio alla fine. Va a prendersi i punti anche Jason Suttles, il giovane talento belga. 28, 2, 3, 5, 2, 1 point. 28, 2 punti, 352, 1 punto. E adesso Jason Suttles, Miguel, bravo. Livio Wenger, quando mancano 5 giri, adesso c'è un gruppetto che si è trovato davanti, poi c'è anche Marco Lira, c'è Felix Reinen, c'è Ken Kuwada. Sono... 28, 2 point, 3, 6, 3, 1 point. 28, 2 punti, 363, 1 punto. E adesso è la possenza di Livio Wenger che va a tirare il gruppo, va a sprintare lungo, va a sprintare lungo per i punti di meno 4. Sono nella classifica provvisoria ufficiosa e ovviamente sempre davanti i butt swings su Andres Gomez e su Marc-Anferriè. È una spaccata qui, su, fra... Jason Suttles e Livio Wenger. 374, 2 point, 28, 1 point. 374, 2 punti, 28, 1 punto. Adesso in pratica il gruppo è aspettato in tre tronconi. Intanto perde un vagone, quello di testa che è Ken Kuwada, quando stiamo ad andare a sprintare ai meno 3 con Jason Suttles, con Bravo, con Felix Reinen e Marco Lira. 28, 2 point, 3, 6, 3, 1 point. 28, 2 punti, 363, 1 punto. E sta andando a caccia del pod. He's looking for the podium. He's looking for the podium. Jason Suttles, currently 7 points. The same points as Martin Ferrier who was in the first breakaway of the race. And now again Jason Suttles, Marco Lira, Michael Bravo, Felix Reinen. Jason Suttles and Michael Bravo. 28, 2 point, 3, 6, 3, 1 point. 228, 2 punti, 363, 1 punto. And they are going full now. They are going full till the end. It will be the last lap. We'll have the bell of the last lap. On the finish line, Felix Reinen. Felix Reinen, the world record man and former world champion. 2, 0, 2, 2 point, 28, 1 point. 202, 2 punti, 28, 1 punto. Nils Buhneman, Nils Buhneman pushing very hard. Nils Buhneman together with Jason Suttles. Nils Buhneman and we are the finish line. 14 minutes and 23 seconds. Nils Buhneman and Jason Suttles. It's Jason Suttles, 3 points. Nils Buhneman, 2 points. Marco Lira, 1 point. And grande applauso per questi ragazzi. Grande applauso, grande gara. Nils Buhneman. Nils Buhneman from Germany. Nils Buhneman and Jason Suttles. Jason Suttles, Nils Buhneman and Marco Lira. Nils Buhneman and Marco Lira. Grazie a tutti